Che sensazione hai provato nella Grono oggi, sapendo di avere questa maglia, te la sei goduta? Sì, me la sono goduta fino in fondo. Ho provato a farla tutta, ma le gambe, dopo i numerosi giorni di fuga, non mi hanno risposto nel migliore dei modi, ma di certo questa maglia è stata una grande spinta. Cosa hai provato ieri, quando a 300 metri dal GPM decisivo vi hanno fermato? Cosa ti è passato in quel momento in mente? Ho provato molta rabbia, ma purtroppo è stato così, ci siamo dovuti fermare per il passaggio a livello. Abbiamo provato a parlare anche con i giudici se era possibile farci fermare in cima, ma non hanno voluto. Abbiamo fatto 300 metri da fermi, diciamo. È una corsa sempre affascinante, è la prima volta che la faccio, è una grandissima emozione e spero di farla molte altre volte. Sei l'unico italiano che torna a casa con qualcosa da questa corsa. Anche questa è un'altra grande emozione, sono riuscito a tenerla stretta questa maglia e sono molto contento. C'è una dedica per questa maglia? In particolar modo va alla squadra, tutti quelli che mi sostengono, alla ragazza e alla famiglia.